Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni dice il turismo è messo in ginocchio dalle chiusure indiscriminate. Oggi in un video dice il settore del turismo è stato molto drammaticamente messo in ginocchio dalle chiusure indiscriminate. Il binomio mezzogiorno turismo è un asset che deve essere valorizzato dal punto di vista economico, occupazionale, sociale e ambientale. Purtroppo a un'innata vocazione turistica non corrisponde ancora un'adeguata consapevolezza delle possibilità che si hanno. L'offerta turistica è disorganica ed è incentrata prevalentemente sulla risorsa mare a dispetto delle enormi risorse potenziali delle aree interne e a dispetto da quel tessuto di città considerato minore ma che conserva ricchezze straordinarie. E su questo ha ragione Meloni, non è che c'è solo il mare, 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 spiaggia. L'Italia è incredibile, ha delle bellezze ogni curva, ogni curva c'è qualcosa di incredibile. Pertanto il turismo e il settore del turismo non è solo spiaggia, poi se vai nell'entroterra allora no, torniamo in spiaggia. No, come dice Giorgio Meloni, non è solamente la risorsa mare ma ci sono enormi potenzialità interne e il paese ha delle ricchezze artistiche incredibili. Poi c'è anche il mare, è completamente circondata dal mare, però quella è una cosa in più perché anche se non ci fosse il mare, se fosse in mezzo a un deserto, avrebbe comunque delle cose incredibili. Giorgio Meloni poi dice che bisogna continuare a battere su priorità storiche per il mezzogiorno, a partire dalla cruciale partita delle infrastrutture e degli investimenti, ma è necessario anche continuare a lavorare su una programmazione capace di dare alle regioni del meridione un quadro organico di riferimento per le politiche turistiche. E' per noi una fase molto, dice, delicata ed è una fase nella quale Fratelli d'Italia vuole ribadire la nostra vicinanza agli imprenditori e agli operatori del comparto che stanno dimostrando una straordinaria capacità di reazione nonostante siano stati totalmente abbandonati dai governi che si sono susseguiti in questa pandemia, sia sul piano pandemico ma anche nella fase della ripartenza. Serve immaginare un programma di lungo periodo. Queste le parole di Giorgio Meloni alla due giorni dedicata al turismo organizzata da Fratelli d'Italia a Napoli. Certo non è una cosa che si può risolvere in dieci giorni, il problema del settore del turismo. Adesso si vedeva oltre 11 milioni di italiani sono partiti, dice cavolo 11 milioni e poi si scopre che comunque ne mancano sei all'appello e pertanto c'è una contrazione del 33% questa estate solo di turisti italiani. Immaginate i turisti stranieri, quant'è il calo. Pertanto sicuramente c'è un incremento del turismo rispetto all'anno scorso, ovvio, matematico, però qua non si è ritornati ai tempi pre-Covid. Certo ci sono meno alberghi, meno ristoranti, meno bar. Pertanto qualche politico dice ma c'è il tutto esaurito, c'è il tutto prenotato. E sì, se le imprese hanno chiuso per il 40% è ovvio che quelle che sono rimaste aperte adesso hanno il tutto esaurito. E c'è anche chi ha aperto catene di ristoranti. Non avete sentito le notizie nelle settimane scorse dove quel famoso attore ha aperto una catena di ristoranti. Un altro imprenditore ha aperto 12 ristoranti nella zona di Rimini. Voi direte ma come aprono ristoranti? E certo, se la metà dei ristoranti ha chiuso c'è spazio, adesso c'è spazio per chi ha i soldi da investire, c'è spazio per entrare nel mercato del turismo. Perché il turismo tornerà a quello di prima, ma se le strutture ricettive sono diminuite del 40%, significa che c'è spazio. Questo lo diceva anche Keynes. L'economia è come una ruota. Si arriva alla saturazione del mercato, si cresce, si cresce, si aprono aziende, si arriva alla saturazione del mercato. Dopo che si arriva in cima con la saturazione del mercato, alla fine c'è il crollo. Le aziende chiudono, disoccupati, disoccupati che spendono sempre meno, quindi anche le aziende che sono aperte fatturano molto di meno perché ci sono più disoccupati. È un ciclo. Poi si arriva a un momento, quando poi ci sono poche aziende, che riparte la creazione di nuove aziende. Riparte il ciclo finché si satura e poi crolla, si satura e poi crolla. Questo è quello che è successo. Qui è successo per motivi sanitari, ma attenzione che era già in atto in Italia, ma non avete visto che prima del Covid ormai erano anni e anni che si continuavano a diminuire le aziende, a chiudere. Eravamo proprio nella fase discendente. La pandemia ha dato un'accelerata a questa fase discendente e adesso ci sarà gente che aprirà, come sta succedendo, già catene di ristoranti. Qualcuno di voi si sarà chiesto, ma come si fa ad aprire i ristoranti in questo momento? Probabilmente questo è il momento giusto per aprire il ristorante. Ovviamente chi ha i soldi? Chi ha i soldi? Quanti cartelli affittasi, vendesi su locali che prima avevate visto aperti, ma non solo per della ristorazione o del turismo, ma anche negozi di fiori, di mobili? Quanti avete visto sul affittasi, rentasi, si loca? Cioè si loca, si loca, si affitta. E poi c'è il problema, leggevamo ieri, non si trovano 200.000 traccamerieri, recepzionisti, non si trovano. Quando non si trovano lavoratori che si fa? Ne parliamo da giorni. Si aumenta la retribuzione e magicamente poi si trovano i lavoratori. Pertanto dire non si trovano e poi non fare niente, prova a offrire 200 euro in più al mese e vedrai che cominci a trovare qualcuno. Poi se ne offri 300 di euro in più al mese sicuramente trovi qualcuno. Certo che se tu dici io mi attengo al contratto nazionale, io ho il contratto nazionale, sì, ma il contratto nazionale probabilmente non è più adeguato ai giorni nostri, ovviamente. Poi in questi giorni ne ho sentito di tutti i colori. Il cameriere guadagna 600 euro, no, ne guadagna 900, no, 1800. E l'altro arriva, no, 4500 un cuoco. Insomma, qui parliamo da 600 euro a 4500. Ho un po' di difficoltà a credere che un cameriere prenda 1800 euro più le mance. Eh, quanti di voi ho sentito in questi giorni, i camerieri non è vero quello che dici tu, i camerieri prendono 1800 euro più le mance. Beh, se fosse così un pensierino quasi quasi ce lo faccio anch'io, eh, 1800 euro più le mance. E come mai allora cercano 200.000 camerieri e non li trovano? Se gli danno 1800 euro più le mance, come dice qualcuno di voi? Che strano, no? Mi sembra un po' strana come cosa. Oh, perché c'è il reddito di cittadinanza. Cari amici vicini e lontani, il reddito di cittadinanza di media sono 550 euro al mese. Voi realmente pensate che un cameriere che ha famiglia sta sul divano per 550 euro al mese? Se realmente stanno tutti cercando camerieri a 1800 euro netti al mese più le mance? Davvero il cameriere di prima preferisce stare con il reddito di cittadinanza di 550 euro che manco l'affitto ci paghi? Capite che le due cose non tornano? Non tornano. Chi mi dice 1800 euro al mese? Non ci posso credere. Non è realista. Non è realistico. Allora diventa inspiegabile perché non trovano camerieri, 200.000 camerieri a 1800 euro al mese netto più le mance. Ma se lo dite all'estero, dall'Europa, arrivano in migliaia e migliaia, in decine e centinaia di migliaia per 1800 euro netto più le mance per sei ore al giorno. Attenzione che chi mi ha raccontato questa bella storiella mi diceva tu non sai che un cameriere guadagna 1800 euro netti al mese più le mance per sei ore al giorno. Ah caspita, neanche otto ore, sei ore. E beh, adesso ci faccio un pensierino. Adesso vado a vedere qualche annuncio diceva 1800 euro sei ore al giorno. Che dite? Altri dicono dieci ore per 600 euro. C'è qualcuno dice sei ore 1800 euro. Beh, insomma. Che dite? Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.